Buonasera a tutti dal telegiornale regionale per i sordi. Sono 73 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione, dove si registra un decesso, un uomo di 85 anni a Prato. E spostamento di circa 4.000 appuntamenti per la vaccinazione con i cittadini avvertiti via SMS. L'AS Toscana Sud-Est invita a verificare telefono e portale regionale. L'azienda raccomanda a tutti coloro che devono vaccinarsi in questa e nella prossima settimana di controllare con attenzione i propri SMS per verificare l'eventuale arrivo di una comunicazione sullo spostamento della data del proprio appuntamento. Si raccomanda altresì, spiega la ASL in una nota, per evitare ogni disguido di accedere al portale prenotazione e cliccare su Ristampa promemoria, verificando così i dati corretti del proprio appuntamento. E in Toscana nella settimana dal 16 al 22 giugno si registra una diminuzione dei nuovi positivi rispetto alla settimana precedente sotto soglia di saturazione e posti letto in area medica e terapia intensiva. Nicola, il bambino di 21 mese ritrovato vivo ieri nei boschi di Palazzuolo sul Segno dove era scomparso da quasi due giorni, è stato dimesso stamani dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stato ricoverato in osservazione. Il piccolo ha trascorso una notte tranquilla in uno dei letti dedicati all'osservazione breve all'interno del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico. Ha riposato insieme alla mamma questa mattina, trascorse le 24 ore necessarie per l'osservazione, le sue condizioni sono apparse buone ed è stato quindi dimesso verso le 10 di stamani. E non solo Nicola Tanturli, il bambino ritrovato ieri, ma anche il fratello più grande di 4 anni si sarebbe allontanato da casa. L'episodio è stato riferito da un abitante di un casolare a circa 2 km a quello della famiglia di Nicola che si trovò il fratello nella sua proprietà. Da quanto emerso, anche il fratello del piccolo ritrovato ieri si sarebbe allontanato da casa e avrebbe percorso a piedi di giorno una distanza notevole, considerata la tenera età. Il vicino lo avvicinò e avvisò i genitori. L'episodio, come si apprende, si risolse subito senza la necessità di attivare un piano di soccorso per come si è invece dovuto fare per Nicola. E si è creata una mobilitazione fra volontari, forze dell'ordine, istituzioni, tra cui il sindaco Moschetti, con pure questo straordinario intuito del giornalista che ci ha dato la soddisfazione di ritornare a rivedere Nicola. Questo l'ha detto il presidente Gianni. È un racconto a lieto fine. Abbiamo voluto subito consegnare il Pegaso, segno di distinzione e di riconoscimento della regione toscana, ringraziando tutti per il ritrovamento del bambino. Giorno di gioia per la nostra città, nel segno della nascita del suo patrono, a parlare il Cardinal Vettori, oggi patrono di Firenze e San Giovanni, che mi piace legare a quella seconda nascita che è stato il ritrovamento del piccolo Nicola tra i monti di Palazzuolo sul Segno. Ci sentiamo partecipi della gioia della sua famiglia e di tutta la comunità che nella prova ha mostrato spirito di coesione e concreta dedizione. Sono sempre le parole dell'Arcivescovo che oggi nella Cattedrale Santa Maria del Fiore ha anche detto per la comunità fiorentina la auspicata ripartenza, nel nostro caso, deve poter assumere le forme di un vero rinascimento. Non si tratta propriamente di ripartire, come se la strada possa essere quella che già percorrevamo prima che la pandemia ci colpisse e che questa ci abbia semplicemente fermati. Dobbiamo prendere coscienza che la pandemia è stata un grande baglio da cui è bene trarre le cose che contano, primo fra tutte la consapevolezza del limite. E non meno importante la scoperta che da soli non ci si salva, ma si può uscire da questa e da ogni crisi solo con uno sguardo e una concreta volontà di condivisione. Sbocco al mare, spazi maggiori, aumento dell'occupazione, produzione di alta qualità per il mercato dei grandi yacht. Il nuovo cantiere navale, vel mare, siamo a Piombino, che ha aperto e avviato la produzione da inizio anno grazie al bando vinto per i protocolli di insediamento previsti dall'accordo di programma per gli interventi di riqualificazione e la riconversione del polo industriale dell'area. Il nuovo ordinanza firmata dal sindaco di Pisa, Michele Conti, per contrastare la vendita da asporto di bevande alcoliche. Da venerdì entrerà in vigore, vi resterà fino al 31 agosto, lo stop alla vendita dei pubblici esercizi, nei minimarket, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici. Nei giorni successivi, dal venerdì al sabato, in centro storico e in tutta la zona intorno alla stazione ferroviaria, il provvedimento tiene conto dell'ingresso in zona bianca dell'abolizione del coprifuoco. Tornano anche in vigore gli orari di chiusura per i locali del centro storico sanciti dal regolamento comunale. E una cittadina svizzera di 30 anni ha denunciato alla polizia il furto nel suo appartamento nel centro di Firenze in via Pellicceria. L'episodio su cui sono in corso indagini è avvenuto nel pomeriggio di ieri. La proprietaria, ritornando a casa, ha trovato la porta di ingresso forzata con un'effrazione, ha dato l'allarme al centro 13. In corso l'elenco delle cose che sono state rubate. E sette dei circa 40 conducenti di veicoli controllati dai carabinieri a Firenze la notte scorsa, in vari punti sui viali che portano al piazzale Michelangelo, sono risultati con un tasso alcolico ben al di sopra del valore consentito. Sono stati denunciati, per tutti è scattato il ritiro immediato dei documenti di guida che saranno trasmessi alla competente prefettura per le determinazioni relative ai conseguenti provvedimenti di sospensione che, si ricorda, saranno raddoppiati in quanto accertati in orario notturno. Tutti i veicoli, compreso un motociclo, sono stati affidati a persone idonee alla guida. E ora vediamo come sarà il tempo nella nostra regione domani. Sarà nuvoloso, con possibili locali e deboli piogge, soprattutto nella zona della Lunigiana. I venti sono deboli, i mari sono mossi. Le temperature sono le minime in calo e le massime in ulteriore lieve flessione. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci. Grazie. Grazie.